E' brevissimo, intanto ringrazio il collega di FLP, gli suggerisco di contattare anche Roberto Cefalo che è venuto qui, è un amico, abbiamo avuto anche esperienze comuni, di insistere non solo sull'argomento della provincializzazione ma anche su tutto il resto di cui abbiamo parlato, tra cui la difesa dei denuncianti e vorrei sentire qualcosa anche dalla Federazione del lavoro pubblico, vorrei sentire da FLP qualcosa anche sui concorsi, sul fatto che non servono 1200 dirigenti ma ne basterebbero 450 perché è solamente uno stipendificio per controllare capillarmente non il territorio esterno degli evasori ma per controllare i dissenzienti interni, quindi vorrei che FLP rispondendo all'appello, noi siamo assolutamente disponibili, quindi da questo punto di vista posso dare solo ed esclusivamente la parola al nostro segretario generale, vorrei che venissero affrontati anche questi temi, ti ringrazio per il tuo ricadema.